Mi sono state riferite cose che non avrei mai voluto ascoltare. Mi sono state riferite tutte le cose. Palline che volano, di cui almeno cinque che volano, più qualche aereo. Il tutto senza alcun permesso, nell'ora di aviazione. Un gesto gravissimo. Come sapete, voi quattro, due più due, quattro. Testa sulle spalle e soprattutto, testa nella testa della professoressa Petolichio. Signori collegiali tutti, accomodiamoci. Ho pensato di portare i confetti per una motivazione lieta. Pensate di averli meritati? No! Vi chiedo di fissare questa formula. Zero pi greco al cubo. Zero significa niente confetti. Quindi cerchiamo di non perdere altro tempo. Venga Rubino. Scrivete questa frase. A Mario piace la pizza con le verdure. Allora, qual è il soggetto? Mario. Ma come Mario? Ma comunque non mi interessa. Per ora io non posso darle la cravatta, signor Giglio. Faremo la riflessione. Quindi non capisco se in sospeso... Non ci sono gli estremi per darla. Tuttavia, noi qui dentro non ci crediamo. La cravatta la vuole? La prenda. Ci levi gentilmente la cravatta e me la dia. Ciao! 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 Ciao!